La Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana il dispositivo dei controlli del territorio, compresa la vigilanza fissa ai monedimbarco in aeroporto e sulle isole del Golfo, volti a monitorare il rispetto delle misure anti-Covid. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate tra il capoluogo e l'area metropolitana 868 persone e 140 attività commerciali, 33 le sanzioni complessive. Cittadini sorpresi fuori dal proprio comune di residenza, in orari non consentiti, senza un valido motivo, senza dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevande all'interno di bar. Queste le principali violazioni registrate e poi quelle situazioni illecite, tipicamente di interesse delle fiamme gialle, come contrabbando di sigarette, spaccio e uso personale di sostanze stupefacenti e commercio di botti illegali. A Dagnano, nel corso di un controllo presso un circolo privato, sono stati sequestrati 312 euro in contanti e 6 videoslot prive di autorizzazione e non collegate alla rete telematica. Denunciato e sanzionato il gestore del centro scommesse, sia perché doveva restare chiuso, sia per la mancata esposizione della tabella giochi proibiti. In un intervento a Caivano, nel Parco Verde, sono state sequestrate diverse dosi di cocaina, segnalando tre soggetti al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Uno di questi è stato anche sanzionato perché soppreso in un comune diverso da quello di residenza, senza comprovato motivo. I baschi verdi hanno fornito ausilio al commissariato San Ferdinando, nella zona di Chiaia e dei baretti della Movida, nel controllo di quattro esercizi commerciali, di cui due sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid-19, un bar in via Filangeri che ha consentito ai clienti di consumare le bibiti all'interno del locale e un altro invico belle donne a Chiaia perché vendeva bevande non confezionate per l'asporto, che venivano consumate davanti all'ingresso dell'esercizio. Inoltre sono stati sequestrati a Bosco Reale anche 18.100 fuochi pirotecnici contenenti 12 kg di polvere pirica di categoria F2 e F4, messi in vendita da un negozio di articoli per la casa abusivamente e senza certificazione per la prevenzione di incendi. Denunciato un responsabile.